Ciao sognatori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Elle e questo è un video bilingue. Parlerò un bilingue italiano e spagnolo. Hola hermoso, hola hermosa, che tal? Io sono Elvira, però tu puoi chiamarmi lui. E questo è un video bilingue, dove parlerò italiano e spagnolo. E questo va a essere un video molto semplice, in realtà. Un semplice video di sussurri e di suoni. Sto registrando questo video con questo microfono. E finalmente, perché negli ultimi giorni ho avuto molti, 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 molti problemi con questo registratore. Vado a fare dei suoni. Ho avuto molti problemi, perché non so se hai visto il video di giovedì in spagnolo, ma praticamente non registrava. e praticamente dunque non faceva la sua funzione principale e non sapevo cosa fare. E ho passato giorni cercando solamente soluzioni per questo microfono. Ora sembra sia registrando, nonostante guardi sempre se sta registrando un video. Perché non appena iniziavo la registrazione mi dava errore quando iniziavo la registrazione. e siccome non mi fido molto ormai della registrazione assidua di questo microfono, per togliere tutti i problemi e per non ridurmi a registrare con il telefono, che non è un audio pessimo, però comunque non si può mettere a paragone con questo. Ho già provveduto all'acquisto di un altro microfono, che non vedo l'ora che mi arrivi perché l'ho preso online. E dico già che le donazioni che mi sono state fatte nel corso del tempo mi sono servite tantissimo, più che mai. Dunque, grazie in anticipo. Poi quando mi arriverà farò sicuramente un video. Cioè nel senso un video unboxing e test, ovviamente. Ma per ora sembra sia registrando, quindi ok. Ho anche un po' la batteria scarica, molto bene. E' stato detto, sto grabando con questo microfono. E come sai se guarda con il mio ultimo video in spagnolo. Ho guardato con il microfono di mio telefono. Di mio celular. E perché questo non miarlo, non funzionava. E ho fatto tutto quello che pude. e ho passato esos dias a buscar una solucion e cambié tutte le impostazioni una mil veces e ora sembra funzionare però tambien ho buscato altri microfono perchè non confio però non confio che possa gravare bene tutte le volte che che voglio gravare un video assi che ho comprati un nuovo microfono e solo deve arrivar perchè ho comprati online e sus donaciones che hanno fatto a mio canale ora mas che nonca me han aiutato assi che grazie e quando mi va a llegar il microfono nuovo che non ti dico qual è eh la grabadora nuova voy a hacer un video de unboxing y de test ovviamente bueno e como estas? yo estoy bien aunque si quizas parezco cansada no se no se pero estoy muy bien en serio y estoy bastante relajada en ese momento y como estas? spero spero molto bene io sto molto bene mi sento particolarmente rilassata in questo momento e dopo come voglio anche andrò a dormire mi sento mi sento un po' di caldo anche se anche se è molto tardi qui però ho voglia di un po' di tempo dopo vedrò oddio mi sento il tapping costo proprio benissimo non l'avevo mai provato perché perché sono un po' non è forte forse non è il materiale non mi devo dimenticare che poi sicuramente mi devo dimenticare lo devo mettere nei video dei suoni e adoro se tapping sobre come se chiama se no se no se come se chiama in spagnolo però è hermoso e spero non olvidarmi quiero ponerlo in un video di cosquillas perché adoro il sonido come sempre come sempre la luce divina dall'alto qua che poi la cosa bella è che ho comprato anche le luci per metterle appunto nei video però ancora non le ho messe genio che poi le devo assolutamente mettere cioè ce l'ho proprio qui accanto a me qui sotto le devo assolutamente mettere perché mi servono anche quando faccio i video dei disegni a proposito dei disegni ho intenzione di mettere altri disegni qui dietro la parete però le parlerò meglio in un prossimo video di cosquilla se no mi dimentico parlerò anche di anime in un prossimo video di cosquilla e voglio anche mettere qui dietro il nuovo disegno che ho fatto che ho pubblicato anche lo speech drawing che è questo che è gara di naruto eccolo qui bellissimo cioè bellissimo il personaggio io lo adoro cioè troppo bello gara esteticamente intendo proprio la storia del personaggio in sé è stupendo quindi lo metterò però prima voglio capirlo dove posizionarlo perché voglio fare anche il disegno di Sasuke Sasuke c'erre è stupendo chiusi 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 qui in la pared detras di mi ehm 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 E' un super caro Que hice un speed drawing En mi canal de dibujos Y si no lo has visto Te dejo el link Como siempre de mi canal de dibujos Bajo En la cajita de las informaciones Y en mi canal de dibujos Ya somos Más de 2000 Más de 2000 Wow Gracias en serio Y aún no he No he Puesto El dibujo de Gaara Aquí atrás porque quiero hacer También el dibujo de Sasuke Y quiero ponerlos Juntos Porque son mis dos personajes favoritos De Naruto Y también Rock Lee Y Bueno También Naruto obviamente Mientras Los personajes femeninos No me gustan mucho Bueno En general a mi los personajes femeninos No me gustan porque Me encantan los personajes fuertes Y muchas veces En los animes Las mujeres siempre son Muy frágil ¿No? Mientras los hombres siempre son tan fuertes Y es A mi me encantan La gente también Los personajes fuertes Para mi la fuerza Es una cosa Necesaria Y hermosa Admiro mucho a las personas fuertes Y es por eso también que yo siempre Intento ser fuerte Más que pueda Tengo mi cámara y mi micrófono Casi Muertos Tengo que cargarlos Dios mio No puedo O sea El micrófono Que la videocamera Quasi scarichi Quella Mi fa più paura Però la videocamera Perché Cioè Sto quasi proprio morendo Ci manca solo che mi stacca Il video così Molto bene Quella Wow Wow Ma che sono stupendo Oh Me encanta Come No Axe Che O Chiquitos hermosos, yo me voy Espero que este video te haya gustado Esos susurros tan cerca al micrófono Y los sonidos sobre este A mi me ha encantado seguramente Repito, si no me olvido Lo voy a ponerlo en mi En mi próximo No se cual, video de cosquillas Que no hay a la hora de que lavar Me encanta Y bueno nos vemos en el próximo video Te mando un beso Gigante Sognatori Questo video qui si conclude Spero che i susurri vicino al micrófono Vi siano piaciuti E che anche i suoni Sopra questo cintino Sopra questo stuccio Vi siano piaciuti Ammi tantissimo E se no mi dimentico Li voglio mettere per l'appunto In un video di suoni E niente, vi mando un bacio E ci vediamo al prossimo video Bye 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 Grazie.